È stato un bel gesto, sono delle cose che mi commuovono perché comunque siamo tutti amici da tanti anni che vediamo il Pineto, che assistiamo, che portiamo avanti questa storia calcistica è un bello omaggio alla mia persona, l'avrei fatto anch'io a un presidente che fosse stato come me che sarebbe stato nella stessa misura, glielo avrei regalato anch'io una targa Veniamo alla partita, che cosa ti è piaciuto e che cosa non ti è piaciuto di questo esordio? La determinazione di fare gol con degli elementi molto importanti come Lecretti, Giambè è stata veramente esecuzione di gol fantastici Quello che non mi è piaciuto è sicuramente è successo qualcosa nella squadra, nel centrocampo Tant'è che gli avversari, tanto onore al Termoli sicuramente per la bella partita che hanno disputato si sono riversati troppo fortemente verso la nostra area e questo ci ha tenuto in tensione fino alla fine Speriamo che tutta questa cosa non succede più con le prossime partite